Ciao, siamo arrivati alla fine di questo 2019 ed è stato un anno impegnativo per tutti sotto tanti punti di vista, ma abbiamo iniziato però già a lavorare per il 2020, che sarà per noi un anno sicuramente di crescita importante, di visibilità e di incremento della professionalità della scuola. Questo grazie anche al fatto di aver sviluppato dei nuovi corsi, aver lavorato sulla nuova formazione per gli istruttori e aver acquisito anche la possibilità di poter ottenere dei riconoscimenti per delle nuove qualifiche sempre legate alla nostra attività con gli istruttori. Quindi sarà un 2020 ricco di opportunità e ricco di nuove motivazioni per continuare ad andare avanti nella nostra crescita. Non mi resta altro che augurarvi un Felice Natale e ovviamente tantissimi auguri a tutti noi, ma da tutti noi. Buone feste! Buone feste! Auguri! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Tanti auguri di Buon Natale e buone feste! Tanti auguri! Buon Natale! Un sereno Natale a tutti voi! Tanti auguri di Buon Natale! Auguri e Buon Natale a tutti! Tanti auguri di Buon Natale e felici feste a tutti! Auguri a tutti e Buon Natale! Buon Natale! Buone feste a tutte le giubbe rosse! Buon anno sempre in cammino! auguri auguri buon Natale auguri buon Natale a tutti tanti auguri di buon Natale auguri buone feste buon Natale da me e da Chico buon Natale buon Natale auguri buon Natale tanti cari auguri di buone feste buone feste buon Natale tanti auguri di buone feste auguri 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 di buon Natale tanti auguri di buon Natale auguri buon Natale sinceri auguri di buone feste a tutti auguri tanti auguri buon Natale a tutti auguri auguri buon Natale auguri Natale signora auguri Azzurri!